C'è preoccupazione da parte delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti della Fabio Perini di Mugnano per la situazione riguardante lo stabilimento di Calderara a Bologna. L'azienda ha infatti deciso di trasferire tutta la produzione del packaging a Lucca con il conseguente licenziamento di 66 dipendenti sui 118 totali operanti nel sito produttivo emiliano. L'Assemblea dei lavoratori di Lucca ha proclamato in solidarietà con i colleghi di Bologna un'ora e mezzo di sciopero alla fine dell'incontro che si è svolto martedì mattina con Presidio a Cancelli. Si apre ora una fase molto delicata che i sindacati hanno intenzione di seguire in maniera approfondita. Nei prossimi 75 giorni, previsti dalla procedura avviata, dovremo provare a trovare un accordo, ha dichiarato il segretario provinciale della FIOM Mauro Rossi, per ridurre al minimo i danni per i lavoratori che sono purtroppo pesantemente coinvolti. La trattativa si svolgerà a Bologna, dove è stata aperta la procedura e vedrà protagonista la relativa RSU, ma noi, ha concluso Rossi, dovremo cercare di dare una mano per far sì che l'esito possa essere quantomeno accettabile. Contemporaneamente verrà chiesto l'avvio di uno specifico tavolo per discutere e concordare le modalità circa il trasferimento effettivo di quelle nuove produzioni nello stabilimento di Lucca, con professionalità richieste, spazi necessari e livelli occupazionali.